Bentornati a Senza un Briciolo di Tesla, ma che bello vedere, ascolti, visualizzazioni dei podcast su YouTube che prendono strada piano piano, siamo sulle 200-300 visualizzazioni che per noi sono numeri importanti, per noi due, perché oggi siamo in due, c'è Andrea. Ciao a tutti, buongiorno o buonasera. Non c'è Ale che però immagino tornerà tra una settimana. Tranquilli, ci sono alcune notizie che vogliamo trattare come al solito ogni settimana, qui seguiteci, iscrivetevi, commentate perché spesso poi se volete intervenire potete farlo, questa cosa non la sanno tutti. Detto questo io direi di andare subito alla ciccia. Per esempio, prima notizia che a me interessa sempre, sempre, sempre è vedere i numeri cinesi. I numeri cinesi sono importanti e basandoci su aprile Tesla Cina ha venduto, venduto vuol dire consegnato, consegnato vuol dire sia in Cina che fuori dalla Cina, 41.208 vetture. Ok? Questo cosa porta? Porta ad essere davanti ad un aprile esageratamente superiore a tutti gli aprile cinesi possibili degli ultimi anni, 2020, 21, 22, l'aprile 2023 è per distacco il migliore di sempre. Ma la notizia interessante è che facendo i calcoli con i dati settimanali, quindi quelli ai quali per fortuna abbiamo accesso, e nelle ultime settimane ci sono stati numeri interessanti, 10.200 Tesla vendute in Cina nella settimana che si è conclusa il 23 maggio, comunque intorno a quei giorni, con questi numeri siamo già di fronte al maggio migliore di sempre. E la madonna! Ma qua ormai è aprile migliore di sempre, marzo migliore di sempre, quadrimestre migliore di sempre. Sì! Ma il bello è che ci arrivi a metà mese al mese migliore di sempre, cioè non è che agli ultimi tre giorni... Aspetta, attenzione, 2000 in più, mesi migliore degli ultimi quattro anni, no no, ripeto, 2020, 2021, 2022 e quest'anno 2023, il maggio di quest'anno è il migliore di sempre a metà mese. Adesso si sta concludendo, aggiorneremo i dati a fine mese, in ogni caso sarà superiore non di poco a tutti i maggio precedenti. Così. Bene, bene. Dov'è la novità? Eh, infatti, Pier in chat dice che noia, cioè è sempre migliore di sempre. No, però... Ormai siamo monotematici, no? Ci vorrebbe un plot twist, no? E invece non c'è. Ecco il plot twist. Il problema è che con Shanghai il plot twist è difficile perché lavorano bene in Cina. Cioè Tesla Cina è il fior all'occhiello di Tesla. E, insomma, è quello dal quale mi aspetto delle novità nei prossimi mesi. Perché, secondo me, Project Island, eh, secondo me non può arrivare da... Eh, non può arrivare da molti altri posti, se ci pensi. Perché da Berlino, no sicuro. No sicuro, Berlino. C'è Model Y. E adesso arriveremo a parlare anche di lei. Dal Texas, dubito altamente, sono concentrati su Cybertruck, vogliono presentare Cybertruck e va bene. Da Fremont? Fremont, sì, ma è America-focused. Cioè, è quello là. Poi hai ragione, probabilmente arriverà... Cioè, per il mercato europeo, dico, arriverà dalla Cina... Ovviamente, sì, no, non credo che dalla Cina vengano consegnate addirittura in America. Magari all'inizio qualcuna negli Stati Uniti. Penso che Fremont farà le classiche due o tre settimane di pausa dove tutti diranno... Ai, 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 problemi. Bene, 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 dai. C'è un'altra notizia, invece, se hai finito col discorso... Molto interessante, perché non so se hai visto cosa ho messo nel nostro bellissimo gruppo dove ci mandiamo le news. Quello è folto, no? Allora, racconto la news. Praticamente un ragazzo che conosco, che vive in Francia, mi ha mandato questi screenshot dove praticamente ChargeMap, che è un'applicazione molto popolare che permette di caricare su diverse colonnine, diciamo, facendo roaming. Quindi avete la possibilità di caricare, ovviamente, con un sovrapprezzo su diverse colonnine di diversi operatori. Però, insomma, se volete la comodità di una singola applicazione, c'è anche ChargeMap. Insomma, è stata la prima ad integrare con i supercharger. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la prima volta è possibile utilizzare, diciamo, il borsellino elettronico, il wallet, il portafogli, diciamo, di ricarica, di abbonamento, quello che volete, di un'altra società, quindi in questo caso ChargeMap, per ricaricare ai supercharger. Per adesso, da quanto mi ha detto questa persona, è disponibile la cosa solamente agli utenti francesi. Lui vive al confine Francia e Svizzera e quindi a volte tipo neanche gli parte la cosa, quindi probabilmente è proprio in questo momento confinato, diciamo, alla regione francese, alla nazione francese. Però è molto interessante anche come l'hanno fatto, perché ovviamente bisogna avere un account su ChargeMap, ma la realtà, di fatti, è che bisogna avere anche un account sull'applicazione Tesla. Quindi Tesla comunque ha obbligato le persone che vogliono sfruttare il borsellino ChargeMap a scaricare l'applicazione Tesla, fare un account Tesla, però nel momento di un aggancio del pagamento si può utilizzare anche l'applicazione ChargeMap, appare proprio, usa ChargeMap, diciamo, una cosa di questo tipo. Un po' come se fosse un'altra carta di credito, ecco. Ok, ah, cioè che ti finisci nel wallet praticamente. Esatto, usi i soldi dentro ChargeMap per pagare i supercharger, ecco. Con il sovrapprezzo però? Eh, probabilmente sì, non mi ha mandato gli screenshot di pagamento di questo e quest'altro, mi ha mandato solamente tutti, diciamo, la procedura di setup per impostare questa cosa, immagino che ci sarà un sovrapprezzo. Chiaramente si paga la comodità, come dicevo all'inizio, avere una singola applicazione invece di 10, a volte è più comodo di stricarsi con 150 test, applicazioni, non applicazioni, eccetera, eccetera. Concordo al 100%, nel senso che secondo me il futuro andrà in quella direzione, sarà un po' come l'Apple Pay, il Google Pay di turno, nel senso che tu non hai la tua banca con la tua app. All'inizio era così, mi ricordo, che dovevi andare nell'app del tuo conto, che magari era anche uno di quei conti online, virtuali, le novità, no? Per usare chiaramente la funzione di pagamento tramite NFC, perché parliamo di 2016-2015 quando ancora non c'era lo standard Google Pay banalmente, forse c'era Apple Pay ma era agli inizi, quindi dovevi andare direttamente nella loro app. il fatto che, cioè, il concetto è uno, conviene anche ai fornitori stessi questa cosa, nel senso che se tu ti trovi davanti a un Electrify America, cioè, adesso immagino lo scenario Stati Uniti, e hai una Tesla e dici, io sono abituato a caricare sempre da Dio i supercharger, però stavolta ho bisogno di caricare qui, cosa devo fare? Devo scaricare un'app? Devo fare, eh? Oppure, c'ho già sul telefono l'app con tutti i sistemi principali di ricarica, mi avvicino e ricarico, ad Electrify America conviene che tu ti fermi. Beh, chiaro. Credo, chiaro, chiaro. Il futuro lo vedo molto, non devo fare niente. Come ne avevamo già parlato, credo qualche puntata fa, esiste anche uno standard di comunicazione per il pagamento, bla bla bla, il futuro sarà quello, cioè tu attacchi, chi se ne frega di che cosa c'è, ci sono probabilmente diversi servizi che ti permettono di fare questa tipologia di identifica, ok, però una volta che ti agganci la macchina e dici io voglio che tutti i pagamenti passino per charge map, basta, cioè non devo tirare fuori l'applicazione, niente rotture, non c'è connettività, eccetera, eccetera, se la colonina comunica con la macchina, sai che la macchina è agganciata da charge map o chi per esso, e basta. Quello io lo vedo, il mulino che vorrei, il futuro che vorrei. Perfetto. No, perfetto, perché io ragionavo ancora sul passaggio dell'app del telefono, però, come dici tu, la fluidità totale si otterrà quando diventerà talmente indolore caricare che sarà quasi incentivante, non so come dire, cioè rispetto anche solo ad andare alla pompa di benzina, che non puoi fare un ragionamento del genere, perché devi sbloccare la pompa, devi avere la quantità, devi andare a pagare, ok, il fatto che sia tutto elettronico ti dà un controllo totale sui numeri di kilowattora pompati dentro, pompati dentro, e soprattutto ti dà la flessibilità, la comodità di attaccare buonanotte, addirittura tu puoi regolare dall'interno della macchina in totale comodità, se vuoi caricare veloce, se vuoi caricare piano, se vuoi smettere di caricare, invece con la pompa devi per forza essere lì attaccato, controllare e staccare, vedere se sta pompando alla massima potenza, adesso ci saranno tanti dettagli, però come dici tu Andrea il futuro è sull'auto che diventa sempre più indipendente dal telefono, il telefono che diventa sempre più, non so come dire, più che strumento per caricare, strumento per gestire. Cioè diventerà d'accompagnamento, no? Per dire? Sì, per vedere, per ricevere la notifica, ho finito la ricarica, oppure cose di questo tipo, cioè per dare un controllo che la ricarica sta controllando, ma anche quello con l'andare del tempo sarà una pratica che verrà persa prima o poi, perché adesso, all'inizio soprattutto io controllavo che le cose andassero a buon fine, nel senso che soprattutto nelle prime ricariche, se ti ritrovi su una situazione nuova, vuoi essere sicuro che quello che stai facendo sia fatto correttamente, quindi stai lì a controllare che effettivamente la ricarica avvenga in maniera corretta, no? Poi questa pratica la perdi una volta che ti rendi conto che la realtà è che ti stavi facendo più pippe di quello che erano necessarie, però dico, a parte questo io lo vedo, l'applicazione la vedo come una cosa, sai, per vedere che le cose stanno andando bene, per ricevere la notifica X, un po' come fa Tesla, no? Puoi controllare però, vedere lo stato dell'auto è comunque una buona cosa. Sì, sì, è sempre una funzione opzionale quella del telefono, diciamola così, è comoda ma è opzionale, l'auto è capace di gestirsi da sola. No, l'unica cosa appunto riguardo a questo servizio che è sicuramente un servizio che arriva in un periodo quasi secondo me anticipato rispetto a quello che mi sarei aspettato, nel senso che bene che stiano già integrando addirittura con un brand come Tesla, cioè stiamo parlando veramente di quel brand che uno dice, no, è chiuso, no, e adesso ci arriveremo che non mica tanto è chiuso, per via, eh, tutti i parallelismi con Apple non c'entrano niente secondo me, ma al di là di questo, è interessante l'arrivo di una funzione, di un servizio come questo, secondo me, finché anche lì ci saranno piccole commissioni, l'utente tenderà sempre a preferire l'applicazione dedicata. Chiaro, tu mi dici, ma l'utente base che si approccia, che ha bisogno, che vuole provare, allora ti dico sì, ma l'utente navigato che ha un'auto elettrica qualsiasi da più di un anno è attento a questi dettagli, non gli costa molto ecco farsi la cartelletta con tutte le app della ricarica, dice dove sono Enel X, tac, Enel X, dove sono, non so, un altro, Supercharger, tac, applicazione Tesla, perché effettivamente la massa guarda anche poi al costo del kilowattora, questo è ormai un trend che si vede sui social, la gente che dice, eh, sono calati, eh, sono aumentati, mi sembra che ci sia molta attenzione, perché le differenze alla lunga possono anche comportare spese non trascurabili, quindi io ti dico, quant'è, quant'è la percentuale che si trattiene SargeMap? Lo 0,0001%, allora ok, va bene, è gratis praticamente, se invece è qualcosa già sui centesimi, mi viene da storcere un po' il naso, ma ripeto, è una questione del periodo attuale, in futuro, come dici tu, come dicevamo anche in passato, gestirà tutto l'auto e non ci sarà nessun sovrapprezzo per me, perché converrà al fornitore, punto. Molto semplice. Non ti sento, non ti sento, non so perché. Scusa, dicevo, intendi, conviene al proprietario della colonina. Certo, sì, al fornitore dell'energia. Dell'infrastruttura, proprio di pratica. Dell'infrastruttura. Certo, certo. Secondo me. Sì, sì. No, 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 sono d'accordo anch'io, alla fine, quello secondo me sarà il futuro. Adesso siamo un po' in un periodo di assestamento ancora, stiamo cercando di capire qual è la quadra, no? Qual è la cosa che va meglio. Poi nel momento in cui si capirà, il mercato segnerà la strada giusta, allora probabilmente arriveremo dove stai dicendo tu. Assolutamente sì. Va bene, abbiamo dato i numeri cinesi e Cina ad oggi praticamente uguale Model Y. In Model Y è arrivata la conferma, quello che noi vi diciamo da mesi, forse anche quasi da anni. Nel primo trimestre, Model Y, auto più venduta al mondo, punto. Non tra le elettriche, non tra i SUV, non tra la classe D, non tra la classe E, non tra la classe C. No, l'auto più venduta al mondo nel primo trimestre. E facciamo la call, già adesso facciamo la predict, ok? Lo sarà anche del 2023. Cioè, questa cosa non vi deve stupire. Avete visto i numeri cinesi, avete visto che ogni mese che passa è tremendamente superiore a quello dell'anno scorso, non quello di tre anni fa, quello dell'anno scorso, Model Y, è destinata a vendere come nessun altro mai nel 2023. Punto. Così. Ricordiamolo. Volevi ricordarlo, Andre? Io lo ricordo. Ormai è... È una noia. Noia? È noia questa cosa qui. È incommentabile, nel senso che le prime volte era ovviamente una notizia che dici, oh, bene, cavolo, finalmente sembra che ci stiamo svegliando, no? E adesso, boh, sembra che... Sono curioso di sapere, più che altro, di sapere di provare a tirare una proiezione di quando questa cosa finirà. Perché, prima o poi, io immagino che tutte le cose finiscono, no? Quindi sarebbe curioso di sapere quando... cioè, fin quando arriverà a tirare così tanto la Model Y, o comunque Tesla in generale, e sarebbe curioso di sapere anche il perché. Cioè, potrebbero essere diversi e perché no? Guarda, io ti faccio già un'altra provocazione. Io, adesso ho detto, 2023 Model Y auto più venduta al mondo, senza ombra di dubbi, per me. Sicuramente la Tesla più venduta, va bene? C'è però dentro di me una piccolissima paura, ma buona, una paura positiva, diciamo così, che una volta che viene presentata la nuova Model 3, non lo so, ma io ho veramente questo sentore che possa fare numeri folli. Ora, uno mi dice, ma non può recuperare il terreno perso nel 2023 rispetto a Model Y? e io gli dico assolutamente sì. Cioè, assolutamente no, non ce la può fare. Ma, ma, io mi aspetto per la nuova Model 3 dei numeri spaventosi. Primo. Sì, 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 dico, dico. Nonostante non sia un SUV, nonostante non sia comoda come una Model Y, magari, vuoi tutto quello che preferisci, ma per due motivi principali. Il primo è iniziale, design, interni, cioè per me il miglioramento sarà netto. Non sarà un refresh tipo Model S che comunque è stato un miglioramento netto rispetto alla Model S precedente. Però, capito, è un mercato più piccolo, è un mercato fatto da persone che vogliono davvero quella chicca in più che per loro vale il prezzo da 100.000 euro di una Model S Plaid, per dire, o 150.000 euro anche in alcuni casi. Ecco, viceversa, con una Model Y e una Model 3, il fatto di avere un aggiornamento ancora più marcato porterà la gente inconsapevolmente a dire eh però, se compro una Model Y adesso che c'è la nuova Model 3 prendo un prodotto vecchio che mi costa di più. Non è vecchio. Non è vecchio perché possiamo parlare anche della notizia che Model Y adesso viene consegnata con Hardware 4. Eh, Andre, tu l'Hardware 4 lo conosci. Sai cosa vuol dire. Eh, devi dire. No, però tornando al tuo discorso, se voglio, voglio dire due cose, nel senso che secondo me non prenderà così tanto terreno, nel senso che Model 3 comunque avrà un posto all'interno, diciamo, del listino di Tesla, Model Y però secondo me continuerà a tirare molto di più di Model 3. Ovviamente ci sarà una grande fetta di persone che, come dici tu, è comunque affezionata al brand, magari c'è la Model 3 dal 2018, eccetera, eccetera, che magari sta aspettando con ansia il nuovo refresh visti i rumors di mesi e mesi ormai e quindi ci sarà una grossa fetta di persone che acquisterà questo nuovo modello. Però, finita diciamo l'entusiasmo iniziale, secondo me Model 3 continuerà a vendere magari non come adesso, magari qualcosina in più, se effettivamente ci sarà un grande, come dire, refresh, netto, miglioramento, esatto. Però, secondo me Model Y poi tornerà a vendere di più. Alla fine è la classe del veicolo che la fa vendere di più, non è che perché è meglio di Model 3 o meglio di Model S o meglio di Model X, è proprio la classe del veicolo accompagnata dal prezzo. Ma infatti, allora, sicuramente la classe vince Model Y, la classe non si batte, cioè la classe sub vince. Questo ormai l'abbiamo capito, è risaputo. Quello che però io ti sto dicendo è che Model 3 nuova attacca da molti fronti, attacca dal fronte novità che tu dici e ma dura poco. Attenzione, perché quelli che sanno già adesso che arriverà il refresh siamo noi, siamo alcuni su Facebook e pochi altri, perché io vedo poca gente anche nel mondo Tesla che cita Project Island, nuova Model 3. Cioè poca gente è consapevole del fatto che stia per arrivare qualcosa che secondo me è grosso, non è piccolo, è grosso. Non cambiano solo i fanali, ecco, capito? Cioè, il concetto deve essere quello. Primo, effetto novità. Secondo, il prodotto migliora. Non è più solo una novità, ma migliora sensibilmente. Sia fuori, lasciamo stare l'estetica, sia la guidabilità probabilmente, ma soprattutto gli interni, che sono sempre stati un po' la critica che viene fatta a Tesla, perché qui, perché là, va bene. Bene, iniziamo a rendere un pochettino più premium anche gli interni di un'auto da 40.000 euro? 40.000 euro per noi. Ora, terzo fronte sul quale verrà attaccata Model Y, il prezzo, l'hai detto tu. Il Model Y costa poco? Vabbè, parliamone, sì, 46-50.000 euro, la fascia è quella lì. Model 3 si è distaccata da quella fascia lì, è più sui 40.000. Si inizia a sentire spesso anche sui 38-39.000 euro. Il fatto della nuova Model 3, secondo me, non porterà solo i due aspetti che ti ho detto prima, ma secondo me anche lato economico arriverà una botta positiva. Lascia stare il periodo iniziale e novità. Il periodo iniziale e novità vedremo il prezzo che vedremo, quello alto, quello pompato, quello da hype per gestire la domanda. La domanda dei super fanatici o di quelli di cui parlavi tu, quelli che aspettano. Però alla lunga, Model 3 nuova farà risparmiare a Tesla un botto, perché se la fanno, io continuo a dire, Elon Musk non è pazzo, non vuole cambiare il design così per vendere un pochettino di più, perché se no hai ragione tu. Dici, tanto Model 3 non vende. Perché investire in Model 3? Che tanto vende solo Model Y. I numeri di Model 3, non dico siano trascurabili, ma cacchio, perché? Perché vuoi cercare di resuscitare un po'? Tanto chi vuole la berlina prende la Model 3, chi vuole il SUV prende il SUV. Non è che il nuovo modello ti cambia le cose. Invece, secondo Elon, probabilmente una mossa così drastica è perché ti cambia il mercato. Ed è per questo che io ti sto dicendo, secondo me, Model 3, anche lato economico, sarà una botta tremenda. E la mia prediction potrebbe essere 35.000 euro, alla lunga, tipo a metà 2024. 35.000 cosa fai? Io vedo Model 3 invece come piattaforma di test per Model Y. Ah, vabbè, ok, a posto. Perché se tu ci pensi, tu pensaci, no? Model Y si sapeva già dall'inizio che avrebbe venduto, cioè quando Tesla ha pensato a Model 3, ha sicuramente pensato anche a Model Y, no? Che poi magari non si chiamava Model Y, ma si chiamava quello che è. Ciononostante ha lanciato Model 3, sapendo benissimo che se lanciava Model Y sul mercato non aveva la capacità produttiva di farla, ok? Soddisfare. E quindi ha detto, facciamo Model 3, che comunque è un'auto che avrà un'ottima richiesta, infatti è quella che ha salvato Tesla, non è, insomma, un'auto che non gli ha regalato emozioni e numeri a Tesla, però poi su quello si è basata la creazione di Model Y. Hanno migliorato qualcosina per fare Model Y, tant'è vero che la prima Model 3 e la prima Model Y avevano molto in comune, ma non tutto, perché avevano fatto degli esperimenti, chiaramente, su Model 3, e secondo il mio punto di vista, anche in questo caso vedremo Model 3 con un refresh interno ed esterno, e di sensoristica, di cablaggi, quello che ci faranno, non lo sappiamo ancora benissimo con certezza, per vedere e poi affinare la produzione poi per Model Y, hai capito? Quindi io la vedo così, io la vedo Model 3 come, la facciamo lì, vediamo come va, vediamo problemi eventuali che possono nascere, critiche, eccetera, eccetera, facciamo la prima iterazione su Model 3, quindi facciamo un'altra piccola iterazione che sappiamo benissimo che Tesla fa costantemente, aggiunge cose, cambia piccoli dettagli, eccetera, eccetera, e poi facciamo il passo anche su Model Y, cioè, su questo io credo che siamo tutti e due d'accordo, prima o poi Model Y avrà un island, no? Sì, quindi, è già venuto fuori, è già venuto fuori Project Juniper, credo, si chiami, comunque, anche lì, ripeto, nulla di nuovo, non sto dicendo che, appunto, Model 3 possa battere Model Y a parità di caratteristiche, non so come dirla, ok? Parità di caratteristiche. Nel momento in cui Model 3 è sensibilmente superiore in termini di offerta, io mi aspetto non un'inversione di tendenza, ma almeno un pareggio in termini di domanda. Io non riesco a immaginarmi, e ti ripeto, c'è un altro elemento che non ho ancora tirato fuori, che è l'effetto Tesla. L'effetto Tesla, io lo giudico a livello mediatico. Quando esce il nuovo veicolo Tesla, che è molto diverso dagli altri, la gente, secondo me, polarizza l'attenzione su quello. Quello diventa il nuovo standard, la gente parla di quello. L'abbiamo visto con Cybertruck che non è ancora uscito e vedremo delle robe folli, secondo me, con quel veicolo. Ma già con la Model 3 Refresh, per me, vedremo un'attenzione, una volta che verrà confermato, una volta che vedremo le nuove caratteristiche, vedremo un'attenzione che si sposterà quasi completamente sulla Model 3. Perché io mi immagino già un concessionario con Model Y e Model 3 Highland vicino, non lo so, cioè un concessionario che non ha concessionari Tesla, va bene, Tesla Store, insomma, ok. Se me le immagino vicine, io, ok, che i venditori non ti diranno questa è la nuova versione, questa qui è quella vecchia che tra poco cambieremo, ok. Però, l'utente lo saprà, perché Tesla avrà fatto già abbastanza boom, la Tesla di adesso farà abbastanza boom secondo me col nuovo modello. Però, non lo so, questa è una paura positiva che ho. Poi, se io sono ancora convinto Model Y farà un boom epico, nel senso che ci sarà tantissima gente che la sta aspettando e quindi, per un motivo o per l'altro, sono sicuro che farà degli ottimi numeri. Però, non credo che rosicherà molto mercato a Model Y. Poi, oh, se vuoi facciamo una scommessa pro buono, però, basta accendere perché sennò... No, 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 ma infatti è una, è una, è un dubbio, è un dubbio. Nel senso che io sono ancora convinto che l'auto più venduta del 2023 sarà in carrozza Model Y proprio in tranquillità totale. Però, però, Model 3 Highland ti dico, io, faccio un esempio, dovessi scegliere un'auto convintissimo di Model Y come auto Tesla migliore in assoluto perché mi piace come forma, come comodità, come guida, abilità, tutto quello che vuoi. Però, 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 il modello nuovo è il modello nuovo. Quella sensazione di comprare il prodotto nuovo è unica. Poi tu mi dici, ma la gente aspetterà il 2024 per il refresh di Model Y? Chapeau, chapeau. Secondo me sì. Cioè, se uno, non credo che faccia bilanciare troppo l'ago della bilancia tra una persona che vuole Model 3 e Model Y. Cioè, se sei indeciso tra i due vuol dire che non sai esattamente cosa fa per te, no? Perché sono proprio due macchine diverse per chi le ha provate. Ok, ok. Però io ti dico, ok, vedi che esce la Model 3 super figa, bellissima, novità, allucinanti. fai uno più uno nella tua testa e dici, ok, queste novità stanno per arrivare anche per Model Y. Compro la Model Y di oggi o aspetto otto mesi che magari mi lanciano fuori anche la Model Y con queste cose? Eh, questa è una grande, questa è una grande domanda. Potrebbe anche essere che Tesla ci stupisca e ci è presente entrambi insieme. O dica Model 3 è disponibile da oggi, Model Y è disponibile da due mesi. Tanto come dicevi tu dieci minuti fa quando abbiamo iniziato a parlare di questo discorso, la maggior parte delle persone non sa niente di sta roba qua. Quindi ci sarà una fetta di persone che sicuramente aspetterà perché dice oh, mico, sono scemo io a comprare la Model Y adesso e poi ci sarà una grossissima fetta di persone che non è informata sui fatti o francamente non gli frega niente di avere i nuovi fanali, la nuova, diciamo, gli interni nuovi eccetera eccetera che la comprerà comunque. Non lo so, da un lato capisco questa leggerezza perché come ti dico come diciamo sempre siamo in una bolla questo dobbiamo ricordarcelo ogni puntata allo stesso tempo però inizio a dare più fiducia alla gente anche alla massa soprattutto quando è di fronte a un acquisto da 50-40 mila euro cioè fosse il telefonino da 500 euro ti direi vabbè chi cacchio lo sa che arriva al modello XY di fronte a una vettura di quella portata e di quel brand soprattutto che per forza di cose secondo me ti fa un po' appassionare o comunque curiosare secondo me non lo so dipende dalla persona come è calibrata nel senso che potrebbe esserci anche il ragionamento contrario che dice io lo voglio adesso perché so che questa qua funziona la gente non si lamenta quella nuova sai te se funziona se ha problemi ci sono talmente tante sfaccettature che secondo me alla fine ci sarà un scossone sicuro però non cambierà tanto non credo che cambi tanto va bene va bene andiamo avanti dai lasciamo lasciamo stare Model Y se no la puntata è Model Y sarà la più venduta del 2023 chi lo sa detto questo torniamo al discorso dei supercharger che tu hai trattato perché integrati in charge map io invece ti dico che è uscita la bomba in settimana immagino l'avrai sentita Ford Fit Tesla incredibile Jim Farley che immagino i più smanettoni conosceranno è il CEO di Ford ha ufficialmente annunciato la collaborazione con Tesla per quanto riguarda la rete di ricarica e non vuol dire soltanto che i veicoli Ford avranno accesso ai supercharger in America che attenzione per noi è scontato che i supercharger siano aperti negli Stati Uniti assolutamente no e signori miei vi ricordate le code che c'erano ai supercharger in America è perché là di Tesla ne girano quindi aprire a un competitor come Ford fa storcere il naso mica poco perché se mentre in Italia noi diciamo ma sì ci sono sempre 5 o 6 stagli liberi e no là c'è la coda se in coda ti trovi una Maki o un F-150 Lightning tu proprietario Tesla inizi a dire ma come è una mossa ecco lì è pericoloso lì sarà interessante vedere come recepirà il mercato questa apertura da noi me ne freghismo da noi niente talmente tante speculazioni succederà non succederà tra l'altro se torniamo indietro di 3-4 anni quando uscì Model 3 io vedevo nei vari social forum di proprietari Tesla Y e S Model S Model X non Y S e X tutti quanti preoccupati oddio adesso Model 3 non riusciamo più a caricare bla 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 cos'è successo niente niente non è successo niente perché per x motivi non so è stata trattata bene non so come mai no anch'io logicamente dici cavolo prima c'erano solo 10 vetture che giravano intime per l'Italia adesso ce ne saranno 10.000 nel giro di 6 mesi è ovvio che succederà qualcosa e invece non è successo praticamente niente certo qualche volta magari in periodi un po' hot tipo Ferragosto cose di questo tipo c'erano degli intesamenti ma non da dire oddio ok come sembrava che sarebbe successo il patatrack totale mi immagino che possa succedere anche così in America cioè tutti quanti si aspettano un casino totale e alla fine non succede niente perché magari chi ne sappiamo noi andare a caricare lì con il tuo bellissimo ma chi ti costa totto è tutto un discorso di giochi no è tutta una teoria dei giochi quello che sarà fatto probabilmente con Ford sarà stipulare un contratto qualcosa che disincentivi in qualche maniera i proprietari Ford ad utilizzare ed abusare diciamo dei supercharger sì 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 assolutamente ci sarà una commissione che guadagnerà Tesla però dall'approccio soprattutto nello space di Twitter che cos'è lo space di Twitter è quella camera vocale dove il buon Elon e il buon Jim si sono messi a chiacchierare di questa novità anche qui vi fa capire la potenza mediatica e la rilevanza mediatica che Elon sta provando a dare a Twitter e che di conseguenza guadagna sempre più valore perché ragazzi due CEO uno di Tesla l'altro di Ford che si mettono a chiacchierare e dicono ok allora va bene sì dai annunciamo che apriamo anche a voi di Ford il nostro sistema supercharger oh sì grazie per averlo aperto perché mio figlio quando giriamo sul nostro F-150 Lightning mi dice sempre papà papà fermiamoci a quel supercharger no figlio mio non possiamo caricare lì non abbiamo una Tesla cioè l'ha raccontata così il CEO di Ford l'ha raccontata così quindi anche lì vi fa capire come alla fine queste chiacchierate in realtà comportano dei cambiamenti non dico epocali però importantissimi quello che dici tu è vero secondo me il rischio è un po' più alto in America rispetto che da noi perché da noi non sono mai state delle code da noi le code sono rarità negli Stati Uniti le code sono normalità quasi nel senso che ci sono alcuni supercharger che sono letteralmente assediati da auto in coda perennemente e mi immagino tutte le autostrade quelle super highway a 5 corsie per senso di direzione cioè lì veramente me le aspetto quelle cose bisognerà capire se il lato economico si riuscirà a calmare la cosa però ripeto andiamo oltre tutto ciò guadagno per Tesla dietro commissione guadagno in termini di esposizione mediatica perché chi va col Mach-E e si trova davanti la nuova Model Y la nuova Model 3 la nuova Model X Model S quello che volete il Cybertruck tra poco è cacchio è tutta pubblicità non solo non solo Elon ha dichiarato che in futuro è aperto e questa è la bomba secondo me è aperto a offrire a Ford anche l'esperienza di guida autonoma o comunque lato software quindi non stupiamoci se poi Ford dice ma sai che forse la vostra FSD non è malaccio dai che facciamo ci date la license possiamo licenziarla diciamo così possiamo usarla anche noi quello è clamoroso quello è veramente unico non è soltanto che non è poco una rete di ricarica quello è tanto quella è la vera bomba secondo me come hai detto tu a parte per i guadagni che Tesla farà perché sicuramente insomma la licenza non costerà due lire questo è poco ma sicuro cioè tu considera a un proprietario Tesla ti costa adesso cosa 8000 FSD non lo so in America forse anche di più 10-11 poi cambia costantemente a cosa la licenzi un FSD per un tuo competitor potrebbe costare molto a un competitor oppure potrebbe anche costare poco non lo so chiaramente poi lì saranno tutte strategie però insomma se al tuo cliente che ti compra anche l'auto lo licenzi 7000 10.000 quello che è non credo che sarà molto distante la licenza per vettura per Ford certo e che vuol dire che costa molto di più cioè tu considera che la Tesla è gratis gratis per Tesla è quasi gratis è sua quella roba lì quindi insomma per lei un guadagno quando tu prendi dall'applicazione dallo divano prendi e dici ma sì dai spenda sti 10.000 euro per FSD mentre per Ford non è gratis questa roba qua vuol dire che il Maki che già Maki o quello che sarà che già ha un costo importante con margini risicati discorsi che abbiamo fatto triti e retriti e poi dovrà costare ancora di più certo questa sarà in particolare da vedere come accadrà sì 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 a meno che appunto Tesla non possa mantenere il suo brand diciamola così nel momento in cui un utente di un'altra vettura decide di usufruire di un servizio che però è di Tesla nel senso tu ti compri la Maki però vuoi la Tesla FSD cioè l'utente Maki vede che sta comprando un pacchetto di un servizio offerto da Tesla quello già sarebbe più economico per Ford ma a livello mediatico sarebbe devastante perché Tesla manterrebbe la proprietà sul concetto di guida autonoma cioè Ford non potrebbe dire la nostra auto guida da sola grazie al nuovo sistema di Ford no no grazie al nuovo sistema di Tesla cioè tu immaginati la pubblicità di Ford che dice compra una Ford perché perché guida da sola grazie a Tesla cioè bomba eppure potrebbe potrebbe fargli vendere di più se dice sta roba cioè e minchia se c'ha il sistema di Tesla che funziona bene allora te lo compro il Ford se no sti cacchi che te lo compro mamma mia sì sì sono tutte quelle finezze per mantenere il nome così che fanno aumentare o abbassare il costo di un servizio perché il resto lo recuperi in pubblicità che è tutto lì poi alla fine incredibile Elon come dicono giustamente in chat mi sembra Pierre ha detto che allora i supercharger saranno in crescita sono sempre in crescita aumentano sempre di più il problema è che aumentano sempre di più anche le auto vendute quindi c'è sempre più più così no un affollamento cioè veramente c'è tanta tanta gente che vuole andare a caricare in questi posti soprattutto negli Stati Uniti soprattutto in California invece Hawk ha detto che Elon ha sempre dichiarato di voler aprire FSD ai competitors ed è vero ed è vero ed è una mossa incredibile come ha sempre dichiarato dei supercharger quella la diciamo da anni è la trappola quella è la trappola la trappola è inevitabile perché nel momento in cui tu entri in questa ragnatela di Elon non esci più non esci più perché ti trovi bene perché quando hai supercharger a disposizione dici sai che c'è c'ho i supercharger chi me lo fa fare chi me lo fa fare di investire nella mia rete anzi aiuto Tesla quando entri nella ragnatela di FSD chi me lo fa fare di investire risorse che non ho perché avendo già l'auto in perdita chi me lo fa fare di investire risorse in nello sviluppo di un'intelligenza artificiale che mi permetta di far guidare da sole le mie auto chi me lo fa fare e tu sei nella ragnatela stai bene non te ne accorgi e dilo ti magna e purtroppo è così la ragnatela di Elon Musk titolone può essere no però il concetto poi è stato ironico su Twitter il paragone tra Ford Tesla cioè collaborazione fatta bene ragionata e poi General Motors e Nicola Nicola con i suoi camion ibridi giù per la collina lasciati andare in folle comunque lì era stata una bomba clamorosa mi ricordo ancora come se fosse ieri il giorno in cui sulla CNBC Mary Barra CEO di General Motors è andata ad intervistare comunque è stata intervistata insieme a Trevor Milton Trevor credo si chiamasse il CEO di Nicola che adesso è tipo in prigione credo insomma è sparito incredibilmente da questo bluff totale incredibile e quindi mi ricordo che erano lì a chiacchierare tutti contenti a annunciare questa partnership pazzesca Nicola è stata delistata ultimamente mi sembra che non ci sia più quindi ho visto ieri anch'io mi dispiace azionisti purtroppo è andata male nessuno l'avrebbe mai detto assolutamente nessuno mamma mia che notizie e a proposito di FSD c'è la provocazione è successa una cosa che in Europa ha del clamoroso perché ci riguarda Europa appunto ma la BMW i5 ha appena ricevuto l'autorizzazione per un suo sistema di guida chiamiamola autonoma comunque senza mani solo con il credo tracking degli occhi che devono essere appunto concentrati sulla linea sulla corsia insomma ecco sistema di guida senza mani questa raga proprio senza mani sul volante fino ad 85 miglia per ora quindi possiamo dire i 120 130 ok e vabbè comunque è una velocità d'autostrada con mi sembra esatto oro che cola cioè proprio grasso che cola e poi mi sembra anche con cambio di corsia possibile ragazzi non è con gli occhi cioè io guardo tipo la corsia di sinistra sì 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 panico magari guardi che c'è una pubblicità a destra la macchina si sposta ma sai che questa cosa qui a parte essere comunque innovativa non se l'ha mai vista no cosa che comunque Tesla può fare ricordiamo che c'è una bellissima telecamera dentro domani a meno che non sia stata brevettata cose tipo licenze bla 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 Tesla può tranquillamente farla cioè l'idea potrebbe essere buona ed eventualmente replicabile anche da Tesla ma è anche utile per persone con disabilità questo mamma mia questa cosa no sì molto quindi è anche accessibile cioè non è una chiccheria tecnologica fine magari a se stessa no ma è anche porta un livello di accessibilità eventualmente a persone che hanno difficoltà motorie ecco hai assolutamente ragione appunto si parla di approvazione del cambio di corsia tramite sguardo verso lo specchietto destro sinistro quindi è è pazzesco nel senso che non è che se guardate un attimino più a destra rispetto al parabrezza allora l'auto si mette a cambiare corsia no dovete approvare con degli sguardi ben precisi comunque ragazzi a parte tutto ciò il fatto di approvare questo sistema di guida che comunque è livello 2 ok perché l'utente il pilota il guidatore deve essere comunque con l'attenzione massima sul veicolo immagino pronta di intervenire insomma deve rispettare tutte le i margini di sicurezza richiesti ecco questo comunque permette a Tesla di avere molta più libertà in ottica di FSD perché FSD è quello FSD richiede non le mani sul volante o comunque FSD fa guidare l'auto qua più o meno cambio di corsia mani non per forza sul volante addirittura gli occhi per provare cambi di direzione cioè è una è una piccola informazione che potrebbe essere sfruttata non poco da Tesla Europa prepariamoci cioè autogol di BMW praticamente autogol perché adesso non so come andrà questo sistema di guida autonoma sì di questo sistema di Adas diciamo sì e non lo so potrebbe essere un autogol in Europa ragazzi in Europa in America fanno già quello che vogliono ma in Europa no in Europa no sarebbe anche ora dai che diamo un scossone un po' a questo a questo diciamo montagna burocratica che abbiamo in Europa che deve essere un attimo scolpita ecco e modellata su quello che è effettivamente l'utilità e la sicurezza ormai nelle strade in questi sistemi di guida semi autonoma chiamiamola così assolutamente assolutamente d'accordo ora direi che possiamo trattare l'ultima notiziella hai qualcosa da aggiungere ti senti ispirato da qualche news particolare che volevi trattare non so a Ravenna che dicono che bravo vai introduci introduci no è semplicemente notizie di qualche giorno fa che in seguito alla tragedia che ha colpito la Romagna principalmente le auto elettriche debbano essere diciamo messe in quarantena detto proprio in parole povere per 15 giorni affinché venga poi certificata la loro sicurezza sicurezza cioè se stanno bene in poche parole se sono sicure da guidare perché non tutti i pacchi batterie hanno un isolamento IP per chi non lo sapesse no international protection credo che sia per quello sufficiente adatto soprattutto a situazioni così però noi che più o meno conosciamo l'ambiente sappiamo che in realtà le auto elettriche tendenzialmente sono forse le più sicure in questi contesti poi adesso magari bisogna comunque dare una controllatina io non andrei proprio tranquillissimo ecco però tu come la vedi Andre diciamo che a livello precauzionale secondo me ci sta tutto nel senso male non fa hai capito la lasci lì così dopo sei sicuro anche a livello tuo personale che sai ti fai una domanda dici oddio è elettrica ha preso acqua che cosa succederà boh no allora dici c'è una misura dei vigi del fuoco ti dicono lasciala per 15 giorni in quarantena distante da altri veicoli da dei fici e dopo vedrai che teoricamente sei a posto ecco anzi sarà un buon test di prova per vedere se effettivamente qualcuna delle auto ibride barre elettriche soffriranno di qualche tipologia di problema perché per carità era sempre meglio se non succedeva un disastro di questo tipo no di sicuro non è il caso testare così le auto e le tecnologie e le auto elettriche in generale però visto che è successo purtroppo vedere se effettivamente le auto elettriche sono pronte ad affrontare anche queste tipologie di disastri ambientali che potrebbero metterle in difficoltà potrebbe anche dare eventualmente poi una nuova spinta al mercato che dice guarda c'è stato l'alluvione ce l'hanno messo in quarantena le auto non è successo assolutamente niente allora forse mi ricredo un attimo su quello che pensavo no c'è sicuramente molta ancora come dire non chiarezza e comunque incertezza sotto il profilo sicurezza delle auto elettriche no e quindi potrebbe anche essere un buon banco di prova per vedere effettivamente che cosa succederà eh sì anche perché ricordiamo cioè le auto con motore endotermico che sono state sommerse come abbiamo visto nelle foto non credo siano recuperabili cioè è ferraglia ormai dubito che si possa pulire cioè sono anche auto magari di una certa età quindi probabilmente costa di più recuperare l'auto rispetto a a cambiarla a quel punto purtroppo ripeto non è assolutamente una bella notizia il fatto però invece che magari delle elettriche riescano a sopravvivere appunto perché isolate perché più facili appunto da recuperare e rivitalizzare diciamo così già lì sarebbe una botta incredibile adesso non è che ti capita la tragedia ogni mese per fortuna assolutamente ma già lì ti fa capire che anche lì a livello tecnologico il prodotto è superiore è più sicuro è più gestibile per verità il difetto su un'auto cioè anche Tesla prendiamo Tesla abbiamo visto decine di video dove tipo Model S Model 3 Model X passano sotto l'acqua a 80 cm e non succede assolutamente niente sennò che probabilmente imbarchi acqua dentro l'abitacolo in alcuni casi e comunque non è una cosa simpatica ma a livello di sicurezza su questi video non si è mai visto assolutamente accadere niente di male potrebbe accadere potrebbe accadere che la tua c'è il difetto hai capito che ha imbarcato un po' di ha entrato un po' di acqua la batteria è andata in corto sicuramente ci sono dei sistemi di sicurezza ma insomma tengono fino a un certo punto immagino la fisica è fisica nel senso che se prima o poi fai corto la batteria ti fa ciaone e addio che in alcuni casi non succede niente come per esempio succede niente non succede niente di diciamo estremo come per esempio le batterie LFP in altri casi succede qualcosa di molto estremo come abbiamo visto in alcuni casi dove semi esplosioni barra incendi molto vigorosi soprattutto nella parte iniziale eccetera eccetera cioè nonostante vediamo che cosa accadrà io sono curioso di sapere ma non lo sapremo perché come al solito viene lanciata l'allarmismo e poi quando non accade niente non se ne riparla però dovesse invece a parlarsene perché vuol dire che qualcuno di queste auto effettivamente ha sofferto di un problema allora è comunque curioso da vedere è comunque curioso da vedere beh assolutamente d'accordo detto questo volevo trattare un'ultima notizia ce n'ho una anche io dopo ah no no vai 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 sparala fuori allora sempre che il ragazzo che vive in Francia che mi ha segnalato quella notizia su Supercharger lui ha acquistato da recente una BMW i4 ora non racconto tutta la storia perché lui ci ha messo tipo due anni per acquistare l'auto magari questa è una storia che poi racconteremo in un'altra situazione insomma contento di aver ricevuto l'auto fare le classiche prove ha fatto dei viaggetti eccetera eccetera ricariche non ricariche da ieri l'auto comincia a dargli problemi da ieri o l'altro ieri comincia a dargli problemi di ricarica in corrente alternata no quindi ci scriviamo alcuni messaggi lui è anche lui informatico quindi è molto avvezzo al debugging a trovare il problema a cercare di capire dove risiede il problema alla fine della fiera ha concluso che il 90% del problema potrebbe essere individuabile su quel componente che è presente in tutte le auto che accettano anche la correntina C che diciamo porta la corrente da alternata a continua per la batteria quindi fa quella trasformazione quindi ha cercato un po' su internet ha trovato un forum dove c'è tantissima altra gente con l'i4 tantissima c'è dell'altra gente con l'i4 che si lamenta di questa cosa dove c'è stato anche un caso di una persona che insomma gli ha fatto notare che insomma c'è questo forum dove c'è altra gente che si è fatta sistemare questa cosa bla 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 e c'è stata non è questa tanta la notizia che la bmv4 soffre di questo problema ma la notizia che mi ha fatto cioè leggendo il forum quello che mi ha un attimo colpito è stato un utente che diceva io ho portato la macchina a sistemare sapevano qual era il problema sapevano che dovevano sistemarmela me l'hanno ridata dicendomi che funzionava tutto e io guardando i log dell'applicazione ho visto che hanno provato a ricaricare per 4 minuti tornando tornando al discorso che le applicazioni servono per controllare guardare visualizzare eccetera eccetera quindi questi qua hanno fatto un test di 4 minuti ho detto oh ma sto qua ci ha portato l'auto che funziona che rompi un rompipalle e basta hai capito e quindi ho detto ma minchia sai tu che l'utente sei anche un po' smaliziato se ti ho detto che ha guardato un forum sto qua è un nerd bastardo che prima o poi ti sgamai capito non è che lo freghi dicendo guarda che a me funziona tutto abbiamo fatto test esaustive capito di quello che c'era e niente questa era un po' la notizia che volevo portarti a te per vedere anche tu cosa ne pensavi di queste pratiche poco poco discutibili non poco discutibili cosa ne devo pensare cosa ne devo pensare no no guarda hai tirato fuori comunque l'argomento dell'app che è grazie a quella che alla fine poi hai avuto il riscontro hai avuto la controprova di ciò che è successo quindi vedi quanto all'utente convenga avere un servizio installato sul proprio dispositivo portatile telefono tablet quello che vuoi comunque collegato alla propria vettura cioè va bene rendere la vettura autonoma indipendente ma meglio avere un controllo sempre esterno un controllo a livello proprio analitico cioè manageriale non tanto appunto vedere sul telefonino quello che si vede sullo schermo cioè quello è già qualcosa di opzionale secondo me invece avere banalmente una cronologia di tutto ciò che succede alla tua auto quello per me è indispensabile in questo caso è grazie a quello se riusciamo ad avere questa chicca interessante di 4 minuti se c'è un problema di ricarica perché il problema vero è che non è che non parte la ricarica ma si ferma dopo un po' si ferma dopo un po' e quindi insomma la macchina alla fine tu la metti di notte pensando di averla ricaricata la mattina invece ti arriva la notifica alle 4 del mattino che tu stai dormendo che ha smesso di ricaricare perché c'è stato un problema e tu non lo sai perché alle 4 del mattino di solito si dorme e stai qua hanno fatto un test di 4 minuti su una roba che dovrebbe durare un pochino di più insomma non è che non mi è sembrata la cosa più professionale di sempre ecco beh sì sulla professionalità beh poi guarda forse non li vorrei neanche biasimare più di tanto nel senso che noi sappiamo chi era il tuo amico loro probabilmente se ne trovano una quantità infinita di personaggi che non hanno idea neanche di come si collega l'auto di come si attiva la ricarica quindi magari dicono ok questo qua è uno sproveduto no nel momento in cui lui però fa presente che il problema è segnalato da vari forum e tutti questi dettagli eh eh cambia la situazione andrebbe affrontata un po' più seriamente non c'è ancora una cultura secondo me a livello proprio cioè magari ti può andare anche bene vai nel concessionario che magari c'ha l'esperto quello veramente appassionato quello che ci tiene allora lì ti risolve il problema altrimenti è veramente a fortuna cioè più di tanto non ci puoi fare secondo me anche perché se è un problema diffuso come fanno cioè è un bel casino cioè devono fare un recall di gruppo non so detto questo non lo so come funziona vai che sto leggendo un'altra notizia molto succosa vai come la prossima attenzione attenzione no io ti volevo citare semplicemente il buon Demeo che ragazzi vi ricordo essere il CEO mi sembra di Renault insomma lui che si occupa di questo brand che nell'elettrico insomma non è proprio piccolino anzi tutt'altro è sempre stato uno dei cavalli di battaglia di Renault l'elettrico addirittura vabbè tutti conosciamo la Renault Zoe che vabbè è simbolica è ottima ottima vettura ma in generale Renault ha sempre dichiarato di voler abbracciare l'elettrico in maniera forte decisa per esempio con la Renault 5 Renault 5 che è stata presentata qualche tempo fa ma che deve essere a detta di Renault il futuro della Zoe che non solo attaccherà lato sentimentale alcuni utenti che negli anni 80 mi sembra morivano dietro a questo modello appunto la Renault 5 ma in più dovrebbe costare meno della Zoe dovrebbe avere prestazioni migliori ecco noi conosciamo Renault conosciamo DeMeo per questo che cosa ha dichiarato i cinesi controllano la catena alta del valore dell'elettrico quindi siamo in difficoltà noi europei dobbiamo cercare di incentivare la costruzione in Europa insomma le solite storie trite ritrite che sentiamo ogni volta provenire da quei brand che si accorgono che non è semplice andare in profitto creare un prodotto commercializzarlo produrlo in grande scala quindi Renault 5 che doveva costare meno scusami ma prova prova a farla falla veramente come hai dichiarato di volerla fare full electric economica o comunque più economica della Zoe fanne tante vedrai che quella lì distrugge il mercato perché poi fa dei paragoni con i cinesi per esempio la famosa MG4 che è ormai il punto di riferimento tra le economiche tra virgolette non è proprio economica che stanno spopolando e un motivo c'è ma se tu tiri fuori un Renault 5 che costa meno è cavoli è cavoli poi vediamo quante MG vendono e quanti invece preferiscono scegliere un Renault un Renault perché la gente europea soprattutto ha ancora buon gusto diciamo così in teoria quindi se viene proposto un modello accattivante di qualità che costa il giusto ci mettono due secondi a sceglierlo rispetto ad un MG4 ok il discorso secondo me è verde tutto intorno a quello e in più ultima conferma di tutto quello che stiamo dicendo sul dubbio di Demeo in merito a questo mercato è il lancio del nuovo Renault Espace non so come si chiami credo Espace o E-Space ma penso sia più alla francese Espace che sarà un grande SUV anche da sette posti con motore full hybrid quindi senza necessità di ricarica cioè come puoi tu promuovere una transizione se poi ti metti a produrre certi prodotti non ha senso non ha senso quindi boh io non capisco non capisco davvero questo non lo so deve convincere sì io leggo i commenti poi no deve sì sì cioè deve convincere gli investitori a pagargli lo stipendio mentre lascia che la nave vada incontro al suo destino cioè boh non lo so non lo so bisogna invertire la rotta ragazzi qua bisogna invertire la rotta solo che invertirla ti fa perdere ti fa perdere supporto perché ti fa passare dal lato del cattivo quindi tu ti appoggi sempre i soliti discorsi triti e ritriti che i lavori in Europa andranno persi che non abbiamo la filiera della produzione delle batterie insomma solita storia trita e ritrita da De Mio non me l'aspettavo ma ragazzi forse perdiamo anche a Renault in questa famosa concorrenza Tesla è un peccato è sempre un peccato quando è certo è un peccato quando si prospetta di perdere un importante perdere insomma si prospettano questi scenari ecco perché insomma la Renault Zoe come dicevi tu all'inizio della tua ringa diciamo è stata una delle prime auto veramente interessanti elettriche che forse è ancora oggi interessante per diversi aspetti tant'è vero che lo dimostrano anche i numeri che ha fatto perché insomma non sono numeri trascurabili rispetto a tante altre auto modelli di auto elettriche di tanti altri produttori che secondo me non si avvicinano neanche minimamente a come dire i numeri di Zoe vedremo come potrebbe procedere e come andrà avanti è l'ennesimo CEO che fa la dichiarazione un po' così no polemica un po' arrendevole non so come definirla altrimenti vai hai trovato la allora è una notizia del 2023 del 20 gennaio ed è importante sapere questa data perché è importante sapere che cosa è successo nel frattempo allora è una notizia che recita così la Havilakistrutten di vieto di trasporto di auto elettriche sui traghetti che non so se l'abbiamo trattato ma io non ho ricordi di questa cosa anche perché la compagnia è norvegese forse sì forse l'avevo sentita questa sì 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 quindi di fatto questa compagnia dice oh hai l'auto elettrica no tu qui non entri ok attenzione perché la compagnia c'è proprio un sito internet con le fac che ti dice attenzione posso portare la mia auto a bordo ti dice sì sì la puoi portare però attenzione le auto elettriche ibride e ad idrogeno che tra l'altro io credo che ad idrogeno in norvegia non ce ne siamo più da boh vabbè non importa sono proibite sono proibite e la cosa mi ha suscitato un po' di interesse quando mi è stata passata tipo 5 minuti fa perché ho detto cavolo in norvegia mi sembra strana sta roba qui no cioè in norvegia se ne sono tante ti stai tagliendo un mercato abbastanza grosso insomma no dalla norvegia è l'ottanta per cento eh minchia boh e quindi ho detto mi sembrava strano e ho detto ne parliamo perché mi sembra tagliarsi le gambe un po' da soli sappiamo benissimo che la motivazione che hanno dato loro nella notizia era che tipo prendono fuoco ok quindi scusa mancava questo piccolo piccolo dettaglio ok sappiamo benissimo che l'incidenza di questa cosa è talmente bassa che è totalmente trascurabile e quindi mi domando c'è un CEO a capo di questa compagnia che no ha problemi di autolesione che in norvegia che l'ottanta per cento di auto elettriche si vuole dire no io voglio fallire ragazzi per piacere non montate sulle mie navi oppure non me la spiego sta roba non riesco a spiegarla e non cioè non danno nessuna motivazione provando a spiegar cioè semplicemente lui non le vuole perché prendono fuoco la comunicazione era quella ci sono molti accidenti con used EV vehicles ok ok ovviamente tutte le auto elettriche a meno che non siano nuove cioè proprio la prende il concessionario e dice no proprio se le porta a me la col carattorezzi fino alla barca cioè tutte le auto elettriche sono usate quindi lui può lui può se è nuova può insomma la motivazione è stata che ci sono stati molti incidenti quindi basta non accettiamo più auto elettriche questo questo è quanto insomma non non c'è stato molto altro però insomma mi 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 ha senso beh si può sempre trasferire in Italia avrebbe mercato probabilmente in Italia avrebbe già avuto più senso diciamo sti cazzi sono talmente pochi che non mi mangio niente ma in Norvegia sono tantissime le auto elettriche cioè gli stai regalando market share ai tuoi competitor di fatto che stanno continuando ad accettare auto elettriche quindi non lo so io veramente questa roba qua non la capisco infatti la persona che me l'ha passata ha detto beh cambierà un'idea molto presto ed è qui che mi ricollego al 10 gennaio 2023 a quanto pare no non hanno cambiato l'idea a quanto pare non hanno cambiato l'idea e boh non lo so monitoriamo ecco quella quella società sarà interessante però avevo letto qualcosa mi sembrava di aver letto anche delle motivazioni un po' più elaborate però adesso non mi ricordo in ogni caso interessante bene ottimo mercato dove prendere questa decisione complimenti sembra anche a me una cosa fatta bene 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 va bene direi che abbiamo più che parlato che qui anche stavolta più di un'ora tranquilla ragazzi dai salutiamo veloci raccomandiamo tutti di seguirci su tutte 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 le piattaforme e con tutte le piattaforme intendo su tutte le piattaforme podcast perché siamo ovunque apple podcast spotify google podcast tutto quello che volete e soprattutto su youtube ragazzi su youtube iscrivetevi perché veramente facciamo delle visualizzazioni non va bene che la gente poi non si iscriva ma mi raccomando dovete rimediare e potete commentare potete mandarci a quel paese potete chiedere informazioni così che noi che solo noi sappiamo perché noi sappiamo cose che sono super top secret però no al massimo chiamiamo un attimo ilon e chiediamo se non sappiamo tranquillo ormai sanno tutti che abbiamo il contatto e quindi è finita ma a parte quello su twitch alla domenica mattina ci siamo praticamente sempre spesso tutti e tre alcune volte in coppia ma va bene così ragazzi passate una bella settimana e voilà ciao voilà voilà ciao